Ok, perfetto. Allora, riprendiamo praticamente dalle ultime dei slide che abbiamo descritto nella lezione di ieri. Innanzitutto buongiorno a tutti per chi si è collegato, diciamo, più recentemente. Allora, abbiamo terminato la lezione di ieri fondamentalmente mettendo in evidenza due aspetti fondamentali e cioè che in pratica il concetto di qualità della misura a cui poi è associato questo famoso indice che abbiamo cominciato a chiamare incertezza di misura, in generale dipende da diversi fattori e quindi da fattori, come dire, un po' più di natura, tra virgolette, oggettiva e quindi legata, per esempio, non solo alle caratteristiche del sistema di misura impiegato, quindi le caratteristiche poi impareremo a chiamarle metrologiche del sistema di misura impiegato, ma poi sicuramente ci sono anche altri aspetti che vanno un po' più anche nella soggettività di chi esegue l'esperimento, di chi esegue la misura, che è legato alla conoscenza della natura e dell'entità della grandezza da misurare, quindi a quante informazioni ho su questa grandezza da misurare per cercare di anche progettare al meglio la catena di misura e anche la procedura di misura, ma senz'altro c'è anche un'abilità dell'operatore nell'uso dello strumento, come capiremo anche sia oggi sia anche con delle sessioni esercitative e poi ovviamente anche la capacità slash possibilità di ridurre i fattori di influenza esterni, perché abbiamo già cominciato ad accennare che l'interazione con l'ambiente esterno, con grandezze diciamo tipo per esempio la temperatura, l'umidità, ma anche con i campi elettromagnetici ambientali, possono determinare come dire delle alterazioni, delle componenti aggiuntive al processo di misura, magari anche con degli effetti aleatori che non possono essere in generale trascurate e che possono far andare a modificare questo famoso indice di incertezza complessivo. Quindi questo indice di incertezza complessivo, quindi l'ampiezza U di quel famoso intervallo di cui abbiamo parlato, è fondamentalmente diciamo anche dipendente da tutti questi aspetti qua, quindi non solo dalle caratteristiche come dire di pregio del sistema di misura impiegato, ma in generale da tutta una serie di fenomeni che potrebbero fare andare ad allargare questo intervallo diciamo di associato all'incertezza di misura. Viceversa abbiamo detto che in alcuni casi invece avete dei target, degli obiettivi specifici a monte, siete voi magari progettisti di una catena di misura, di una procedura di misura, per cui avete come target magari il raggiungimento di una certa specifica di progetto in termini di incertezza di misura e a quel punto dovete diciamo scegliere la catena di misura e la procedura, il metodo e tutto ciò che è necessario anche eventualmente per la compensazione degli effetti ambientali e quant'altro per cercare di rientrare con il vostro progetto di catena di misura all'interno di uno specifico obiettivo che era quello di partenza che garantisca un adeguato livello di qualità della misura per quella specifica applicazione. Giusto per darvi qualche esempio anche in tal senso è il caso in cui per esempio voi siete progettisti di un misuratore, faccio un esempio per il rilevo delle infrazioni tipo autovelox piuttosto che magari per la contabilizzazione dei consumi energetici, lì generalmente ci sono dei requisiti anche a livello normativo, legale che vi dice quale deve essere l'incertezza massima di quegli strumenti e quindi a quel punto l'incertezza diventa una specifica di progetto e sulla base di quella io poi devo progettare tutta la catena di misura e tutta la procedura affinché si garantisca quel livello di incertezza che uno voleva come obiettivo. Detto questo abbiamo richiamato giusto un attimo i concetti che abbiamo visto ieri, andiamo a approfondire un po' meglio la prima situazione delle due che abbiamo appena descritto e cioè che fa capire perché al concetto di qualità della misura sono associate quei quattro item di cui parlavamo prima, cioè conoscenza della natura e dell'entità della grandezza da misurare, sistema di misura impiegato, abilità ed esperienza dell'operatore nell'uso dello strumento e capacità, possibilità di ridurre i fattori di influenza esterna. Allora, partendo dal primo di questi item, quindi conoscenza della natura e dell'entità della grandezza da misurare, sicuramente una prima domanda che dovrei farmi è che tipo di grandezza deve essere misurata? È una differenza di potenziale, una corrente elettrica, una temperatura o qualsiasi altra cosa? Questo ovviamente è importante chiederselo, seppure può sembrare banale, perché mi devo orientare verso la tipologia di strumento da utilizzare. Poi, altro aspetto anche al settanto delicato è quali sono le variabilità temporali e spaziali attese per il misurando, cioè se io devo analizzare una certa grandezza, un certo misurando, al solito per caratterizzarlo potrei aver necessità di campionare più punti di questa stessa grandezza sia da un punto di vista temporale che spaziale. Il campionamento temporale è un concetto che ovviamente conoscete bene, perché lo avete visto già in molti altri corsi, però il campionamento spaziale ha una valenza, se volete, equivalente, soprattutto quando si ha a che fare con grandezze ambientali, quando appunto magari devo andare a rilevare gli inquinanti per esempio all'interno di una certa area abitativa, per capire se all'interno di quell'area si stanno sfiorando dei livelli di soglia che poi devono far partire delle azioni correttive, tipo blocco del traffico, piuttosto che diciamo qualche altro tipo di forma di correzione. E quindi anche la caratterizzazione, scusatemi, l'analisi della variabilità spaziale, quindi il campionamento spaziale, è importante conoscere, diciamo avere un'idea di quale deve essere per poter evitare problematiche che sono simili a quelle che avreste nel momento in cui, per esempio, campionando temporalmente un segnale, commettete il cosiddetto aliasing, che fondamentalmente poi si traduce da un punto di vista pratico in o mancanza di informazioni, oppure addirittura alterazione delle informazioni sul fenomeno che state andando a campionare, che state andando a descrivere. Per cui sicuramente un aspetto importante che va considerato quando ci si confronta con la grandezza da misurare è capire quali sono le variabilità temporali e spaziali attese in modo tale da predisporsi anche ad un campionamento temporale o spaziale che consenta poi di descriverla nel modo migliore possibile. Poi, altro aspetto che sicuramente è importante cercare di conoscere dall'inizio è che valori sono attesi. In maniera macroscopica sono valori piccoli, sono valori grandi, ovviamente non stiamo parlando di valori assoluti in questo momento, ma è importante cominciare a dire, non so, faccio un esempio, se faccio una misura di tensione è che devo misurare millivolt, microvolt o devo misurare centinaia di volt o kilovolt o addirittura megavolt, cioè perché ovviamente sapere qual è l'ordine di grandezza del misurando ovviamente mi consente di andare a definire se utilizzare uno strumento piuttosto che un altro, se una tecnica di misura piuttosto che un altro. Quindi tutti questi aspetti che abbiamo citato e che sono appunto riassunti all'interno di questo box tratteggiato in rosso sono quelli che poi mi permettono di definire la tipologia di strumento da impiegare sulla base della grandezza da misurare ed eventualmente anche sull'ordine di grandezza da considerare, da dover scegliere, per le scale dello strumento o comunque per la tipologia di strumento in sé. E poi sicuramente queste informazioni mi consentono anche di cominciare a definire quali potrebbero essere i punti di campionamento spaziale e temporale. Giusto per farvi un po' meglio visualizzare quello che dicevo prima per quanto riguarda il campionamento spaziale e temporale, facciamo un esempio in relazione al campionamento spaziale. Se appunto immaginate che si stia decidendo di misurare la concentrazione di certi inquinanti per monitorare lo stato dei mari e si decide di fare questo campionamento spaziale a distanze eccessive quello che potrebbe accadere è che magari i punti che voi andate a campionare sono abbondantemente sotto per esempio ad una soglia di allarme per quanto riguarda la concentrazione di una certa tipologia di inquinante ma se appunto sono troppo distanti tra loro, ovvero la spaziatura in questo caso è troppo elevata quello che potrebbe succedere è che all'interno magari di questo intervallo si stanno perdendo delle informazioni che sarebbero delle informazioni importanti magari nel caso specifico dimostrerebbero il superamento della soglia. in maniera analoga diciamo così il campionamento nel dominio del tempo quando avete studiato il campionamento nei precedenti corsi poi ovviamente ci ritorneremo anche noi perché lo spiegheremo, lo riprenderemo nell'argomento che riguarda la conversione analogico-digitale sicuramente il campionamento temporale ha delle situazioni similari da dover considerare perché una scelta per esempio di una frequenza di campionamento troppo bassa rispetto alle dinamiche del segnale fa sì che si perdano degli eventi o si vendano dei fenomeni che a quel punto rendono il fenomeno che si sta andando a caratterizzare descritto in maniera incompleta e quindi non appropriata magari per l'applicazione specifica. Per quanto riguarda il secondo aspetto cioè il sistema di misura impiegato abbiamo più volte detto che già con degli esempi che quando io devo scegliere uno strumento per effettuare una misura posso scegliere fra diversi strumenti che diciamo mi offrono diverse caratteristiche da un punto di vista proprio di volendo essere ancora qualitativi caratteristiche di pregio da un punto di vista un po' più tecnico queste caratteristiche che poi consentono anche il confronto fra strumenti magari di marche diversi, di costi diversi eccetera eccetera prendono il nome di caratteristiche metrologiche. Sulle caratteristiche metrologiche faremo una lezione specifica probabilmente già la prossima settimana per definirle in maniera molto puntuale però io ve le inizio ad accennare semplicemente perché poi ci tornano utile poi nella trattazione di questa lezione ancora. In particolare tra le caratteristiche metrologiche più comuni, più importanti da cominciare a capire c'è senz'altro per esempio il campo di misura che come il termine stesso va a dirvi vi dà indicazione di qual è il range, qual è l'insieme dei valori che quello strumento riesce a misurare. Non so, magari ci saranno strumenti che consentono, volendo fare degli esempi in termini di correnti, che consentono, hanno campi di misura da pochi nanoampere a qualche ampere e invece strumenti che hanno campi di misura che vanno magari da pochi microampere a chiloampere. Ovviamente perché il campo di misura è importante? Perché? Perché se io devo misurare un fenomeno che appunto è prossimo alle decine di nanoampere posso utilizzare lo strumento che vi dicevo prima, cioè che magari mi permette di misurare da qualche nanoampere fino a qualche ampere, ma non posso utilizzare il secondo esempio che vi facevo, cioè quello strumento che va da qualche centinaia di microampere ai chiloampere. Perché? Perché se devo misurare nanoampere, decine di nanoampere, devo perlomeno avere che questo valore cada all'interno del campo di misura ammissibile dallo strumento stesso. E così via. Quindi ecco perché sicuramente è una caratteristica metrologica fondamentale per gli strumenti, così come sicuramente un'altra caratteristica metrologica di interesse, forse la più importante, è la curasi o anche classe dello strumento, che in qualche modo rappresenta una fascia di tolleranza all'interno della quale io mi aspetto ci sia il valore vero del misurando, il valore vero convenzionale del misurando. Per cui spesso questa curasi si esprime in termini percentuali, come vedremo anche dagli esercizi che faremo probabilmente già giovedì, e come vedremo anche durante le esercitazioni, e che appunto rappresenta una fascia, no? È proprio un insieme, vi dà un intervallo, scusatemi, sull'asse delle X per indicare appunto qual è la fascia all'interno della quale io mi attendo ci sia il valore vero del misurando, rispetto ad una certa lettura, una certa indicazione che lui vi darà sul display. È ovvio che quanto più è stretta questa classe, quanto è più stretta questa fascia, tanto meglio è lo strumento. E quindi in generale, per esempio, da un punto di vista di accuracy, perché significa che riuscite a restringere, come dire, l'intervallo di probabilità all'interno del quale vi aspettate che ci sia il risultato vero della misura con un certo livello di confidenza prefissato, magari anche sufficientemente elevato, prossimo ad esempio al 95%, o addirittura in alcuni casi al 99%. Poi, sicuramente un'altra caratteristica metrologica importante è, diciamo, la risoluzione, che rappresenta la minima quantità in ingresso allo strumento che può essere appunto rilevata e anche misurata, quindi discriminata con il display dello strumento. Quindi, se ho una variazione di un millivolt, la leggo pari pari sul display dello strumento, quindi vedrò la cifra che si incrementa o si decrementa di un millivolt a seconda della variazione se positiva o negativa. Se invece ho una risoluzione dell'ordine del volt, io mi accorgerò solo di variazioni dell'ordine del volt. Quindi capite bene che più è piccola questa risoluzione, più in generale io riuscirò ad apprezzare anche variazioni piccole sul misurando. Ecco perché, diciamo, capite bene adesso, iniziate un po' a intravedere meglio perché il sistema di misure impiegate ed in particolare perché le caratteristiche metrologiche, con riferimento nel campo specifico all'acchiurasi e alla risoluzione, possono essere qualcosa che va più o meno a inficiare la qualità da associare a una misura. Perché è ovvio che se io utilizzo uno strumento con una classe molto ampia, quindi con un intervallo di acchiurasi molto ampio, mi aspetto che anche l'intervallo associato all'incertezza di misura, che rappresenta la fascia di valori ragionevolmente attribuibili al misurando, cresca. Se invece viceversa utilizzo uno strumento che ha un'acchiurasi piccolina, di conseguenza mi aspetto che anche quella fascia U tenda a rimpicciolirsi rispetto a prima. Perlomeno la parte di contributo di quella fascia che è dovuta all'acchiurasi, quindi alla parte proprio specifica dello strumento, sicuramente peserà di meno rispetto ad uno strumento che magari è caratterizzato da una classe maggiore e quindi da un intervallo in generale più ampio. Quindi vi rendete conto come le caratteristiche metrologiche dello strumento, del sistema di misura impiegato inizi a diventare un aspetto importante poi ai fini di quello che sarà l'ampiezza di questo intervallo finale. Nella lezione scorsa abbiamo già cominciato a fare anche qualche esempio, quando qualcuno di voi mi ha chiesto ma io come faccio a tenere il valore vero convenzionale e così via. In realtà per una certa grandezza, facciamo ancora l'esempio di una differenza di potenziale, ma giusto per fissare le idee, io posso avere uno strumento che è quello che ho comprato a 10 euro, magari pure sulla bancarella, che avrà una classe di acchiurasi, per esempio 1%, 5%, spesso queste classi sono espresse in termini percentuali, cioè che significa che se io leggo 10 oppure leggo 100 volt, il 5% significa che generalmente io il risultato vero dovrebbe stare, il risultato del valore vero convenzionale dovrebbe stare in un campo che va a 100 più o meno il 5%, ovvero tra 95 e 105. Poi magari invece di spendere 10 euro ne spendo 200, quel 5% inizia a diventare 2%, ne spendo 2000, quel 2% inizia a diventare 1%, ne spendo 10.000, l'1% inizia a diventare 0,1% e così via. Quindi mano a mano che generalmente aumento il costo della strumentazione, di fatto sta andando a ridursi quella classe e quindi l'acchiurasi, ovvero l'intervallo diciamo all'interno del quale quello strumento è in grado di far trovare il valore vero del misurando. E ovviamente gli strumenti da laboratorio, come vi dicevo, si configurano a livello di classe intermedia, non sono certo i campioni quelli dell'istituto metrologico primario, cioè dell'ISRIM, ma che hanno costi elevati, hanno anche ambienti di lavoro particolarmente controllati per esempio anche da un punto di vista della temperatura e dell'umidità, proprio per garantire certe prestazioni metrologiche e così via, mentre invece quelli che comprate magari nei negozi un po' più amatoriali, addirittura come vi dicevo prima sulle bancarelle, parliamo di strumenti da 10 euro che ovviamente da un punto di vista metrologico non hanno in generale delle caratteristiche molto spinte. Detto questo avete qualche domanda? Al solito se mi date un feedback, diciamo, vocale è meglio. No, Brof, è chiaro, alla fine. Ok, va bene. Allora, arriviamo a questo punto, al terzo elemento di cui abbiamo detto, che è l'abilità ed esperienza dell'operatore nell'uso dello strumento. Una volta che abbiamo deciso di utilizzare un certo tipo di strumento, perché abbiamo individuato più o meno l'ordine di grandezza, oltre che la natura del misurando, eccetera, sicuramente poi anche l'operatore ci mette del suo nell'eseguire la misura e molto spesso si ha a che fare, soprattutto con la strumentazione, questa qua digitale, che ormai è quella più diffusa anche in diversi ambiti pratici, di avere a che fare con degli strumenti, non solo che sono multifunzione, quindi che consentono di fare più tipologie di misure, e questo è il caso, per esempio, dei multimetri, che proprio per definizione il multimetro fa multimisure, e quindi in particolare è in grado uno strumento che, a seconda di come lo impostate, consente di fare misure di tensione, corrente, in particolare sia in alternata, sia in DC, consentono di fare misure di resistenza, per esempio, a due a quattro morsetti, come studieremo più avanti, quindi sono strumenti in generale che consentono di fare varie tipologie di misure. Sicuramente una prima cosa importante da mettere in evidenza è la scelta della modalità di misura e quindi andare a selezionare quella giusta per quello che ci serve, ma poi sicuramente questi strumenti hanno anche generalmente diversi range e quindi varie portate, cioè nel senso che hanno la possibilità di, per esempio, selezionare, non so, range a seconda dell'ordine di grandezza che devo andare a misurare, per esempio voi potete misurare, immaginate che dovete misurare tensioni dell'ordine delle centinaia di millivolt, magari se lo strumento possiede range che vanno da qualche millivolt fino al volt e poi il range che va dal volt fino a mille volt, ovviamente se voi dovete misurare qualche centinaia di millivolt dovrete andare a scegliere il primo dei range che vi dicevo, perché altrimenti cosa succederebbe? Lo strumento non vi va in errore se voi scegliete un range superiore a quello che è, con un valore minimo che è superiore a quello che dovete misurare, però diciamo in maniera molto banale poi sul display trovereste magari un valore zero, perché? Ma non perché ci stavano zero volt lì, quindi non c'erano nemmeno cento millivolt, ma semplicemente perché magari voi avete scelto un range troppo, con un valore minimo troppo alto rispetto a quello che avreste dovuto misurare e quindi con la conseguenza che poi sul display dello strumento, visto il numero finito in generale di cifre che hanno a disposizione questi strumenti, trovereste un'indicazione fasulla sbagliata rispetto a quello che diciamo in realtà era realmente il valore del misurando. Quindi ecco perché l'operatore anche in questa fase ha un ruolo importante, cioè che è quella della scelta del range più appropriato. Tenete presente che molti strumenti hanno la possibilità anche di definire un autorange, cioè hanno delle routine automatiche, degli algoritmi interni, che nel momento in cui voi andate a premere il tastino autorange sullo strumento, lui attraverso una serie di misure preliminari in maniera completamente automatica va a selezionare quello che lui ritiene essere il range più appropriato per quella misura. Ebbene, questa cosa qua generalmente funziona abbastanza bene, però ci sono alcune situazioni in cui se i segnali hanno delle caratteristiche particolari e se addirittura si trovano magari a cavallo di certi range, di certe scale intermedie, fondamentalmente possono fallire e quindi è bene magari anche in maniera manuale operare per andare a scegliere il range nella maniera diciamo più appropriata. Altri aspetti che pure sono legati, sono legabili come dire, all'abilità e all'esperienza dell'operatore è in alcuni casi il fatto che anche la scelta della risoluzione, cioè di questa minima quantità che io posso andare a misurare sul display, visualizzare sul display potrebbe essere lasciata, come dire, all'operatore la scelta. Non sempre avviene in maniera automatica e quindi anche qui se io non scelgo la risoluzione giusta, certi numeretti non li vedo proprio. Cioè se io scelgo una risoluzione di 10 millivolt quando poi io dovevo misurare, volevo apprezzare variazioni di un millivolt, con la risoluzione di 10 millivolt non le riesco a vedere. E quindi ancora una volta partendo da quello che era lo scopo della misura e dalle informazioni che avevamo sul misurando, poi dobbiamo ottimizzare l'uso dello strumento sulla base anche della risoluzione se necessario. E poi sicuramente ci sono altri aspetti che sembrano un po' marginali ma che possono avere un'importanza diciamo fondamentale in alcune applicazioni che sono per esempio dei cosiddetti azzeramenti iniziali o anche il fatto di garantire che gli strumenti abbiano superato il warm up termico, cioè il preriscaldamento necessario a poi garantire le prestazioni che sono dichiarate dal costruttore. Cioè nel senso che molto spesso quando si ha a che fare soprattutto con misure di grandezze piccole è necessario scorporare da le misure quelli che sono in qualche modo gli effetti cosiddetti di carico causati dallo strumento stesso quando viene inserito nel circuito e queste tecniche che rientrano appunto in quelli che si chiamano azzeramenti iniziali servono fondamentalmente a compensare degli effetti sistematici, quindi degli effetti che si presentano sempre con lo stesso segno e che si manifestano con degli errori sistematici, scusatemi che si manifestano sempre con lo stesso segno e quindi che se opportunamente azzerati inizialmente attraverso delle procedure che spesso sono anche suggerite dai costruttori stessi degli strumenti consentono di automaticamente diciamo depurare il risultato che vi verrà fornito sul display dello strumento da questi errori sistematici causati da questi effetti sistematici. Un esempio potrebbe essere quando vedremo le misure di resistenza, quando si ha a che fare con misure di resistenza relativamente piccola, poi vedremo pure un po' meglio che significa relativamente piccola, più avanti in certe condizioni si potrebbe avere l'effetto dei collegamenti stesso, dei puntali che vengono utilizzati per collegare il resistore al multimetro che potrebbero avere un effetto iniziale significativo, pertanto vanno predisposte delle procedure di azzeramento che servono a fare in modo che la resistenza stessa magari di questi puntali e di questi capi venga sottratta al risultato complessivo di misura in modo tale da ottenere sul display solo il risultato del valore di resistenza da attribuire a quel specifico resistore. Così come anche il prediscaldamento è un fatto importante perché solitamente i costruttori di strumentazione quando vanno a dichiarare le caratteristiche metrologiche del proprio strumento e per esempio una su tutti la cura, sì che è quella che abbiamo iniziato ad anticipare prima, vanno a esplicitare che quelle caratteristiche valgono innanzitutto dopo che è terminato il warm up termico che essendo strumenti elettronici a seconda anche della tipologia di strumento può variare da pochi minuti anche in alcuni casi a qualche ora, quindi ancora una volta bisognerebbe andare a verificare questo aspetto perché se si utilizza lo strumento durante questo transitorio che ancora non si è completato, quindi non si è aspettato il prediscaldamento, anche i risultati saranno non più così caratterizzabili attraverso la curasi e perché di fatto la curasi viene garantita dal costruttore solo se sono terminate le condizioni di prediscaldamento, quindi è terminato questo transitorio termico ed in più in alcuni casi addirittura il costruttore vi dà anche dei coefficienti di sensibilità, cioè vi dice come la curasi si allarga, quindi peggiora quella famosa fascia se si sta utilizzando lo strumento al di fuori di un range di temperatura che magari è quello diciamo previsto all'interno delle specifiche, quindi magari vi dice fai attenzione lo puoi utilizzare all'interno di questo, all'esterno di questo range di temperatura, faccio un esempio, all'esterno del range 10-40 gradi, però se lavori a 45 non è che lo strumento si rompe e non funziona, ma ti do un coefficiente di sensibilità e ti faccio capire come questa curasi va ad aumentare, diciamo così, va a peggiorare quindi al variare della temperatura quando esce al di fuori del range tipico di utilizzo. Infine, l'ultimo aspetto che diciamo è da andare a considerare appunto questa capacità, possibilità di ridurre i fattori di influenza esterni, principalmente abbiamo detto interazione con l'ambiente. Allora, in alcuni casi, come vi accennavo prima, voi avete anche la possibilità di avere dalle specifiche una sorta di coefficiente di sensibilità che va a indicare come certe prestazioni vanno a peggiorare, in particolare la curasi, in funzione della sensibilità termica, della temperatura, scusatemi, ambientale, così come eventualmente anche dell'umidità. Ma poi, altri aspetti che pure tipicamente dovrebbero essere dichiarati nelle specifiche del costruttore dello strumento, è le eventuali condizioni sotto le quali valgono quelle specifiche, quindi quella curasi, anche in relazione per esempio alla stabilità dell'alimentazione. Gli strumenti spesso non sono a batteria, ma sono alimentati, sono strumenti da batteria, per poter garantire certe caratteristiche devono operare sotto certe condizioni ben definiti in termini di alimentazione, in termini anche di qualità dell'alimentazione, in certe condizioni ovviamente anche di umidità, di pressione e anche di vibrazione, cioè nel senso che anche gli strumenti stessi da campo, quindi quelli alimentati a batteria che sono pensati per poter lavorare in condizioni, come dire, mobili, hanno delle specifiche massime di vibrazioni oltre le quali poi non sono più garantite le specifiche metrologiche, così come anche in relazione all'esposizione eventualmente della strumentazione ai campi elettromagnetici. Come potete immaginare, i campi elettromagnetici sono dei fenomeni invisibili, no, da un punto di vista nostro, ma che in effetti, se di intensità significativa, possono andare ad alterare anche un risultato di una misura in maniera, diciamo, tale da poter peggiorare sostanzialmente l'incertezza di misura e ovviamente questo diventa un fatto importante soprattutto quando si ha a che fare con procedure di misura sviluppate per applicazioni in cui io sto cercando di contenere quanto più possibile l'incertezza complessiva e quindi ogni minima perturbazione esterna che mi può andare a far allargare questa fascia, compreso appunto quello che potrebbe essere l'influenza dei campi elettromagnetici ambientali, va mitigata il più possibile. Quindi sicuramente avere un controllo, quindi una capacità, in alcuni casi la possibilità di ridurre i fattori di influenza esterna, è sicuramente un aspetto importante che va tenuto in considerazione per fare in modo che quella fascia di, come dire, di incertezza sia la più stretta possibile. Quindi a questo punto volendo sintetizzare, diciamo, su questi aspetti che abbiamo detto, fondamentalmente quello che deve essere chiaro è che quando cominciamo a parlare di questa fascia di valori ragionevolmente attribuibili al misurando, che è la definizione stessa di incertezza di misura, devo tutto sommato tener conto del fatto che questa fascia avrà un'ampiezza che dipende da un lato sicuramente dal sistema di misura impiegato, in particolare dalle sue caratteristiche di pregio, caratteristiche metrologiche, su cui abbiamo detto studieremo un po' meglio nelle prossime lezioni. E quindi sicuramente devo partire, se voglio avere un'incertezza contenuta, da uno strumento di misura che abbia di per sé una sua incertezza contenuta. Ma poi non mi basta avere, per esempio, una Ferrari. Se io non ho la patente, non la so guidare la Ferrari, quindi se non sono in grado come operatore di utilizzare al meglio lo strumento, di utilizzare al meglio le caratteristiche di quello strumento, io rischio comunque di avere che quella fascia si allarghi significativamente a causa non delle caratteristiche metrologiche dello strumento, ma del fatto che non lo sto utilizzando nel modo più appropriato. Così come se io il misurando lo sto caratterizzando male da un punto di vista temporale o spaziale, anche lì si allargerà la fascia di incertezza, ma perché? Perché fondamentalmente non lo sto caratterizzando a dovere. Infine, se non tengo conto dei fattori di influenza esterni e quindi dell'interazione che avrà il mio setup di misura, il mio sistema di misura con l'ambiente e quindi con le varie caratteristiche ambientali come temperatura, umidità, pressioni, vibrazioni, campi elettromagnetici, stabilità dell'alimentazione e quant'altro, rischio ulteriormente di peggiorare questa fascia di renderla più ampia a causa di queste altre tipologie di interazione. Quindi dovete iniziare a immaginare che, caso migliore, quando io vado a fare una misura, posso ritenere che l'incertezza di misura sia quasi tutta dovuta al sistema di misura impiegato e quindi alle caratteristiche metrologiche dello strumento che sto utilizzando. Purtroppo, molto spesso, questa fascia tende comunque ad allargarsi per tener conto di altri fenomeni che non sono sempre poi controllabili, perché anche quando io dico sul punto 4 capacità slash possibilità è proprio quello, cioè non sempre io ho la possibilità di ridurre i fattori di influenza esterni. Se io sto facendo delle misure in condizioni necessariamente un po' critiche da un punto di vista ambientale, ovviamente io là ci posso fare poco. E allora, a quel punto, se non riesco a mitigare l'effetto di questi agenti esterni, di questa interazione con l'ambiente, purtroppo devo fare la misura in quelle condizioni ed accettare che la fascia complessiva sarà un po' più ampia di valori ragionevolmente attribuibili al misurando, perché c'è stata questa interazione con l'ambiente che, diciamo, non sono riuscito a controllare per motivi magari logistici, quindi non perché non sono stato capace io perché non sapevo come fare, perché semplicemente per quella specifica situazione non potevo ridurli. Non so, sto facendo una misura di tensione in prossimità di un reattore nucleare per monitorare qualche cosa e là non è che posso andare a dire aspettiamo abbassiamo il livello di campo magnetico. No, là ci sono gradienti di campo, diciamo, enormi che addirittura possono creare delle forze così forti da rompere gli strumenti. Figuriamoci se io posso dire no, abbassiamo un attimo il campo magnetico altrimenti non riesco a misurare la tensione. No, là io proprio voglio misurare magari la tensione che si sviluppa su un elemento a causa dei gradienti di campo magnetico, quindi non posso andare a modificare, diciamo, il fenomeno che io devo andare a misurare per consentire di misurare nelle condizioni migliori. Io sto monitorando quello e quindi quello lo devo monitorare nelle condizioni tipiche. Se poi ci sono dei fattori al contorno che hanno come conseguenza delle problematiche sulla mia misura, se la riesco a mitigare da un punto di vista di misura, quindi riesco per dire a schermare lo strumento, riesco a, non so, ridurre la parte di sensibilità termica perché lo metto dentro, diciamo così, un fornetto termostatato, dentro un ambiente piuttosto termostatato e quindi controllato a punizia di temperature, umidità, eccetera, eccetera. Ora se posso contenere queste cose, ben venga, ma se no, se non riesco a controllare tutto questo, fondamentalmente devo aspettarmi in generale un ampliamento di questa fascia di valori ragionevolmente attribuibili al misurante e quindi un peggioramento fondamentalmente della qualità della misura. Ci siete su questi aspetti? Feedback? Posso andare avanti? Sì, prof. Perfetto, allora, a questo punto andiamo giusto sulla, iniziamo ad introdurre questo argomento che poi è, diciamo, una delle parti fondamentali del corso e che in parte verrà ripreso ovviamente nella lezione di domani, probabilmente col professore Betta in aula e giovedì poi su questo argomento faremo un po' di esercizi con me. Allora, innanzitutto, a questo punto ovviamente viene il dubbio che spero di avervi un po' infuso è, ok, il professore Capilino ci ha fatto una capa di chiacchiere sul fatto che la misura non può essere, diciamo, considerata come il valore letto dallo strumento, ma devo considerare un intervallo. Abbiamo detto questo intervallo come si chiama, abbiamo detto che da che cosa può dipendere, quindi se si fa stretto, se si fa largo, eccetera, eccetera, ovviamente è legato al concetto di qualità di misura e più è ampio e peggio è in generale, ma a questo punto il dubbio è, ok, ma come si fa a calcolare questo intervallo, cioè come si fa a quantificare questa, diciamo, questa incertezza di misura? E allora la risposta è fondamentalmente una guida, una guida internazionale, anche piuttosto vecchia, anche se ha avuto, diciamo, degli emendamenti, quindi delle modifiche non sostanziali, almeno per quello che ci riguarda, è che poi è stata tradotta in italiano dagli enti Unicei, M13005, il nome della guida, che si chiama Guida all'espressione dell'incertezza di misura. Come vi dicevo prima, i comitati che hanno provveduto alla traduzione sono i comitati Unicei, che sono degli enti normatori italiani, che spesso recepiscono, diciamo, le norme a livello internazionale, quindi questa guida è una guida a livello internazionale, non è che vale solo in Italia, e che vengono tradotte per, appunto, diciamo, il pubblico italiano, viene tradotta questa guida, ed è la guida, appunto, 13500 del 2000. Allora, innanzitutto cosa fa questa guida? All'interno di questa guida trovate tutto quello che serve per capire come calcolare l'incertezza di misura in vari casi. Però, ovviamente, per il tempo che noi abbiamo qui a disposizione, diciamo, non è pensabile di affrontarla in maniera integrale, perché potremmo perdere almeno 30 ore solo su questa guida. Ovviamente cerchiamo di sintetizzare gli aspetti principali che ci serviranno per quelle che sono la maggior parte delle applicazioni pratiche e poi per quelle che sono in particolare le nostre applicazioni. Allora, la prima cosa da iniziare a capire è che questa guida classifica i metodi di valutazione delle incertezze di misura in due categorie. Categoria A, che comprende metodi statistici, ovvero oggettivi per la stima delle incertezze di misura, e categoria B, ovvero tutti gli altri metodi per la stima dell'incertezza di misura, che fondamentalmente poi implicano elementi di valutazione più di tipo soggettivo. Allora, cominciate già ad associare un po' questa doppia categoria A e B, con cui la ISO guide, questa guida classifica i metodi di valutazione dell'incertezza di misura, iniziatele ad associare rispettivamente la categoria A a quei metodi che derivano un po' da osservazioni sperimentali, n osservazioni sperimentali. Quando noi abbiamo fatto un po' di esercizi e abbiamo detto, supponiamo di aver collezionato n campioni, n valori di una certa grandezza, fondamentalmente lì avete avuto, tra virgolette, il tempo, la possibilità di estrarre informazioni da quella distribuzione sperimentale di dati e quindi applicare dei metodi statistici di tipo oggettivo, per la stima anche delle incertezze di misura. Abbiamo visto che esistono dei test statistici che ci consentono anche di capire quanto la modellazione di una distribuzione verso una distribuzione canonica, diciamo, può essere effettuata. Quindi avete tutta una serie di informazioni, quanto più n sale, che consente di utilizzare dei metodi quanto più oggettivi possibili, nello stimare fondamentalmente le distribuzioni, gli intervalli e così via. Nel caso in cui invece siete sfortunati, o perché non avete il tempo di fare n misure, o perché il fenomeno non vi consente di fare n misure in condizioni ripetute, perché magari sono fenomeni che non si verificano in maniera frequente, allora il tipo di approccio che si utilizza per la valutazione dell'incertezza fa parte di quello che è la categoria B, ovvero si iniziano a fare delle ipotesi di natura soggettiva e quindi che si basano un po' più sulla propria esperienza o sulla conoscenza di quel fenomeno magari dalla storia, da fatti pregressi e che quindi per esempio portano a fare delle ipotesi, ad esempio sulle distribuzioni. Quindi non si parla più di distribuzioni osservate, ma si parla di ipotesi fondamentalmente sulle distribuzioni. La cosa importante da capire però è che lo scopo della classificazione da parte della guida in queste due categorie, non sottindente l'esistenza di differenze nella natura delle componenti risultanti da due tipi di valutazione, ma è solo il modo in cui queste vengono valutate. Quindi che significa? Che se esiste una componente di incertezza in un fenomeno, potrebbe essere tanto valutato con un metodo di categoria A, tanto con un metodo di categoria B, ok? Quindi non è che c'è la differenza fra tipologie di incertezza, ma è la tipologia fra i contributi di incertezza, ma è semplicemente il modo di valutazione dei contributi di incertezza. Quindi non parlate in generale, quando magari vi verrà chiesto o vi verrà spontaneo dire, incertezza di tipo A, incertezza di tipo B, perché non è la tipologia, ma è il metodo con cui viene valutato, diciamo, quella componente di incertezza, che può appartenere ad una categoria A o una categoria B, a parità di grandezza di influenza, quindi di componente di incertezza che uno sta considerando. Indipendentemente poi dal tipo di categoria, di valutazione quindi di categoria di appartenenza, fondamentalmente le valutazioni delle varie componenti di incertezza si basano comunque su distribuzioni di probabilità e le componenti risultanti da ambe tue le categorie sono quantificate, mediante sempre varianze o scarti tipo. Nel caso delle valutazioni di categoria A, come vedremo, si parlerà di stime sperimentali, quindi diciamo di scarti tipo sperimentali, quindi applicheremo le formulette che derivano dal fatto di avere un campione di n elementi, eccetera, eccetera. Mentre invece nel caso di categoria B, dove si fanno ipotesi sulle distribuzioni, ovviamente gli scarti tipo saranno le deviazioni standard teoriche, diciamo, attese, legate a quel tipo specifico di distribuzione che si sta considerando. E anche qui abbiamo fatto un po' di esempi. Per cui nel caso dei metodi tipo A, generalmente quali sono, come dire, gli aspetti che vanno sicuramente considerati nel caso in cui volessi applicare un metodo tipo A per la valutazione dell'incertezza, sicuramente devo immaginare di avere a disposizione un certo numero di campioni, abbiamo detto, e quindi è necessario effettuare una ripetizione della misura, quindi avere una collezione di dati della misura. E poi, diciamo, da quello poi cosa si fa? Solitamente si vanno a stimare i parametri della distribuzione, potenzialmente dopo aver modellato anche la distribuzione, quindi magari dopo aver fatto un test del chi quadro per capire sulla base dei dati quale distribuzione è più appropriata a modellare quei dati osservati, e poi una volta che uno li ha, diciamo, ha definito anche la distribuzione, può andare a stimare questi parametri della distribuzione attraverso generalmente i due parametri sintetici che abbiamo già individuato, e cioè il valore medio e, diciamo, lo scartotipo. A quel punto, fondamentalmente, in maniera molto banale, la stima dell'incertezza diventa di fatto, associata a quelle n misure, una stima dello scartotipo, ed in particolare, quindi la valutazione dello scartotipo, ed in particolare se poi il valore rappresentativo della mia misura sarà il valore medio, il valore di incertezza sarà dato dalla varianza sperimentale diviso il numero n di osservazioni che ho fatto. Questo vi fa anche capire che se, diciamo, aumenta n il numero di osservazione, generalmente questo contributo di incertezza ovviamente diminuisce a parità di numeratore, ok? Se invece per qualche motivo io non andassi a considerare il valore medio come elemento rappresentativo della mia misura, ma volessi rappresentare uno qualsiasi di quei campioni, allora per valutare con metodo A l'incertezza di misura per quanto riguarda, diciamo, queste n osservazioni, invece di considerare lo scarto diviso n, la varianza diviso n, per quanto riguarda, diciamo, ovviamente bisognerebbe fare la radice quadrata perché la u è una u di x con una u quadro di x, però invece di considerare n a denominatore, a denominatore ci darebbe 1, quindi si utilizzerebbe direttamente la radice quadrata dello scarto tipo sperimentale, diciamo, di quello che avete valutato, diciamo che è di fatto lo scarto tipo, scusate, della varianza sperimentale, la radice quadrata della varianza sperimentale. Giusto per fare un esempio molto rapido, se io ho per esempio 25 misure di resistenza fatte su un certo resistore e voglio valutare, diciamo, l'incertezza da associare a queste 25 misure, utilizzando la componente di incertezza valutata con categoria A, cosa dovrò fare? Dovrò valutare il valore medio, e fidatevi esce questo numeretto, eventualmente se lo controllate, valutare lo scarto tipo del campione attraverso la formuletta che abbiamo visto, e uscirà fuori questo valore qua, 0.040 ohm, per cui l'incertezza da associare al valore medio, se utilizzo il valore medio come rappresentativo, sarà data da questo S diviso radice di 25, perché è n25, ovvero 0.08 ohm. Ok? Detto questo, allora, con oggi direi di terminare la lezione, avete giusto qualche domandina su questi ultimi concetti? Tutto chiaro ragazzi? Ovviamente questi aspetti su cui abbiamo fatto, per esempio, questo ultimo esempio, lo vedremo anche, diciamo, negli esercizi, quindi sicuramente ci torneremo su. Però se avete già qualche domanda, avete qualche curiosità su questi aspetti, ditemelo adesso. Ok, allora, se non avete domande, a questo punto domani penso dovrebbe venire il professore Betta a fare lezione, giovedì invece farete degli esercizi su questa parte qui, soprattutto della guida alla valutazione dell'espressione dell'incertezza, per l'espressione dell'incertezza di misura le faremo in aula giovedì mattina. Ok, allora a questo punto interrompo la registrazione, arrivederci e buona prossima.